L'amica geniale e appassionare così tanto. Mamma mia, e tu? Che lo faccio io, così, una di fronte l'altra. Loro non si conoscono, però Lila comunque nota questa bambina. Il casting è durato 6-7 mesi. Abbiamo cercato persone in ogni parte di Napoli. Mio fratello era stato preso per fare questo provino e io e mia sorella l'abbiamo accompagnato e hanno provato a fare il provino a noi. Azione! Che fai? Ci non aiutano poco. Ma vengo. Ti aspetto qua. Il mio personaggio parte dai 8 ai 11 anni. Mi somiglia perché è forte. Abbiamo lo stesso carattere. È una persona molto bella secondo me. Ma ci vogliamo provare o non ci vogliamo provare? Lo sapere ci ha aiutato sul set spiegandoci le emozioni, le parole, come le dovevamo dire, in che posizione dovevamo stare. È un crescente interiore, cioè è impressione di spiacere per me. È sempre spiritoso, allegro. Oh ragazze, sbaglia una! Mamma mia, sbaglia una! Ti fa sentire a tuo agio. Lavorare con Saverio è bellissimo. L'hai detta tu, l'hai detta tu! Le amicizie. L'amicizia è stata la cosa più bella. Il momento in cui mi hanno scelto, sono stata felice, emozionata. Cioè mi sono sentita veramente dentro. È una bella esperienza che ti porti adesso. Sì e stop. Benissimo. Tre, quattro, tre, due, uno! Il progetto Amica Geniale nasce nel 2013. Racconta la storia di un rapporto pieno di odio, invidia, bugie. La cosa perfetta sarebbe arrivare al carrello che siamo su Elena, rosso. Elena ci porta da lì. Tra Elena e Lila c'è un legame molto forte. Si compensano, sono una all'opposto dell'altra. Elena è una ragazza timida, silenziosa, sta sempre da parte, però osserva sempre tutto ed è molto empatica. Può passare dalla rabbiatura alla dolcezza, alla tristezza e questi cambi sono molto veloci, quasi impercettibili. Azione! Avevo appena iniziato una scuola di recitazione quando sono venuti a fare i casting per l'Amica Geniale. Abbiamo cercato persone in ogni parte di Napoli. Non capivo se stia andando bene o male, poi finalmente mi è andata la notizia ed ero contentissima. Io e Gaia siamo diventate molto amiche, abbiamo condiviso un sacco di cose e io mi ci trovo veramente bene. Infatti al provino ho sperato che venisse scelta lei. Questo è brutto, invece più... Non sei capito, è come se ti... 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 se fa stile il contatto. Con Saveri mi sono trovata subito bene, mi piacciono gli insegnamenti che dà, i consigli. Io ho cominciato da zero perché io non ho mai recitato in vita mia e lui mi ha insegnato come muovermi, a moderare la voce, mi ha insegnato a recitare. Il primo giorno di sette in realtà non ero nervoso, ero abbastanza tranquilla. Non conoscevo nessuno della truppa. Non avevo preso confidenza con il rione. Ero a multinanzi. Proprio voglio lasciare più. Sarà niente della mia famiglia, veramente. Bravissimi, bravissimi! Bravissimi! Partito! 423. Uno prima due macchine. Azione! L'Amica Geniale è un libro e una serie che racconta una storia universale. Una tetralogia che ripercorre l'arco di una vita porta questo tipo di racconto al massimo delle sue potenzialità. È una grande occasione per fare qualcosa di molto italiano ma contemporaneamente di internazionale. Andiamo al mare allora? No. Ma come no? Perché? Lila e Lenu sono diventate due figure quasi mitiche. Di fronte al momento cruciale delle scelte rappresentano le due facce della vicenda umana. Chi rischia e chi si tira indietro. Luci, facciamoci quindi di questa scena qua un punto di vista grina. Ho fatto una serie di provini e callback. Di tutte queste 8.000 persone che abbiamo visto soltanto 4 erano giuste per il nostro scopo. Io ho preso quel volantino e ho chiesto a mia madre se potevo fare il casting. Dopo qualche settimana mi hanno richiamato dicendomi che dovevo fare un altro provino ed ho scoperto che era avere il ruolo di Lila. La difficoltà è come mantenere un'autenticità in un film ambientato in un'altra epoca. Prima di tutto ci ha fatto conoscere, ci ha fatto togliere la timidezza. Quindi abbiamo preso la sceneggiatura e abbiamo vissuto queste situazioni come se fossero la realtà. Azione! Lo Stavere ci ha aiutato sul set spiegandoci le emozioni, le parole, come le dovevamo dire. Mi piacciono gli insegnamenti che dà, i consigli. Io ho cominciato da zero perché non ho mai recitato in vita mia e lui mi ha insegnato come muovermi, a moderare la voce, mi ha insegnato a recitare. È un regista molto istintivo, cioè che segue molto l'emozione del momento. È sempre spiritoso, allegro, ti fa sentire a tuo agio. Lavorare con Stavereo è bellissimo. Il cinema è un lavoro di grande equippa. Abbiamo fatto riunioni con lo scenografo, con il direttore della fotografia. Da lì poi a un certo punto io ho iniziato a disegnare delle cose e a concentrarmi sui personaggi. Ma incredibilmente come entravano gli attori nei miei ambienti c'era un rapporto di grommaticità straordinario. Noi osservando il nostro rione certamente vediamo una realtà fatta di disagio. Abbiamo dovuto sporcare i capelli come erano sporchi all'epoca. Si lavavano ogni 15 giorni, un mese. Quindi noi abbiamo ricreato quel mood. Saverio non vuol vedere niente di trucco, niente che si capisca che è una cosa lavorata. La ricerca è partita soprattutto sul lato visivo, visionario. La cosa fondamentale è pensare a come ricoscire questo grande spazio. E noi abbiamo rifatto una cinecittà dal nulla. Era la prima volta che visitavo un set cinematografico. È diventata casa nostra, insomma. Sarà un peccato doverlo abbandonare. Conosci nuova gente in questi ambienti, quindi è una cosa bella. Questo ambiente della mia famiglia, veramente. Alla prossima! Non ho tutto l'et Sei che nessuno puòНIB ilPPo. Alla prossima! Qui ? Qui?